Ragazzi, una splendida padella, tanti utilizzi Chi ne so però bene, uai? E... No, le marche non si possono far vedere cazzo, c'è dappertutto Mettiamo il... Non so dove metterla Tutto marche Comunque, vedete ragazzi, è pure finta pietra Mostriamo bene la finta pietra Ma molti utilizzi, anche quello da dare in testa Perfetto, ciao ragazzi, questo è tutto Come si chiama il prodotto? Non si può dire Bene, bene Padellus Tutto padelle, da Diego è tutto Ciao Guaglio